Devo essere sincero, non me lo sarei mai aspettato dopo Sassuolo Cagliari, dopo che aveva detto in un'intervista che aveva ancora un anno di contratto, quindi c'erano tutti i preparativi per continuare un altro anno perché il contratto di Ranieri scadeva nel 2025, e invece non è così, lascia il Cagliari e lascia il calcio perché all'età di 72 anni lascia anche il calcio, lascia il ruolo di allenatore che l'ha contraddistinto per tantissimi anni. Vorrei percorrere la carriera calcistica di Ranieri a prescindere da quello che è stato l'allenatore del Cagliari, quello che è stato per tutti noi, per tutto il popolo sardo, per ripercorrere un po' il suo cammino calcistico. Ranieri era già stato allenatore del Cagliari dal 1988 al 1991, non ero neanche nato io, quindi chiaramente non possiamo parlare di quel periodo calcistico, però ha allenato il Valencia, l'Atletico Madrid, il Chelsea, ha allenato svariate squadre estere, ha allenato anche la nazionale greca, ha allenato squadre italiane come la Juve, come l'Inter, come la Roma, ha fatto una carriera enorme, però certamente bisogna dire una cosa, la sua ciliegina nella torta è stato ovviamente il titolo vinto con l'Acer nel 2016, che non è così tanto recente perché magari pensate adesso che siano passati due secondi e invece sono passati veramente tanti anni, 2016-2024, fate il conto voi, sono otto anni, otto anni ragazzi, sembrava veramente ieri che Ranieri riusciva a stupire tutti, tutto il mondo calcistico vincendo il titolo con l'Acer che doveva malapena salvarsi, questa è una favola bellissima, una pagina bellissima di questo sport che l'ha dipinta Ranieri e sono veramente soddisfatto perché veramente è una grandissima persona e lo si vede nelle interviste, nel modo in cui si pone davanti al pubblico mai una sbavatura, mai una parola fuori posto e di allenatori che sbavano nelle interviste, se ne sono visti veramente tanti, tantissime sbavature, soprattutto in quest'ultimo periodo, Ranieri ha 72 anni, rimane diplomatico, rimane un signor allenatore che ha fatto cambiare mentalità, un po' anche a noi, un po' la concezione di sport e anche di passione, perché comunque la passione era andata ad appassirsi dopo la retrocessione col Venezia, è arrivato a gennaio 2023 dopo il periodo infelice che avevamo avuto con i Verani, è arrivato Ranieri e già solo il nome Ranieri è accostato al Cagliari che torna dopo tutta la carriera che ha fatto, decide di tornare al Cagliari in Serie B, emblematico, era stato il mio video dove sono stato intervistato su Rai3, ho detto tutti allo stadio, tutti allo stadio perché era giusto dire tutti allo stadio, perché in quel momento la gente non aveva voglia di andare allo stadio, lo stadio non era pieno, non era neanche vuoto, però c'erano 6.000 persone, 7.000 persone allo stadio, ecco direi proprio che Ranieri da quel punto di vista ha stravolto completamente la visione di andare allo stadio, anche perché in un periodo così moderno con le pay tv dove la partita puoi veramente guardarla ovunque, sul telefono, sull'iPad, sulla tv, al bar, tranne che allo stadio, la gente non ha più voglia di andare allo stadio, le statistiche parlano chiaro, diciamo che in Inghilterra con stadi moderni è diverso, in Italia con stadi veramente obsoleti, invece le statistiche di media spettatori è veramente bassa, eppure nonostante avessimo un po' perso quella passione più che persa direi smarrita, ecco dovevamo ritrovare quella passione che ha sempre contraddistinto i tifosi del Cagliari, perché la tifosia del Cagliari è una tifosiera di tutto rispetto, e infatti si è visto in questa stagione anche negli ultimi sei mesi della scorsa, Ranieri prende il Cagliari e inizia un progetto che sarebbe stato a breve termine, ce lo saremmo aspettato tutti, certo è che in questo momento non mi sarei immaginato che Ranieri lasciasse il Cagliari, e quindi direttamente anche il calcio, perché poi l'aveva preannunciato una volta lasciato il Cagliari a meno di qualche offerta della nazionale, che potrebbe arrivare come potrebbe non arrivare, il fatto sta che è l'ultima il Cagliari, l'ultima squadra di club in cui allenerà Ranieri, domani si giocherà l'ultima partita, sono presente allo stadio e cercherò di godermi l'atmosfera a pieno, perché verrà salutato Ranieri come giusto che sia. Però ecco, un paragone dall'entusiasmo che avevamo noi con Liverani, rispetto all'entusiasmo che noi avevamo e che abbiamo tuttora con Ranieri, ragazzi è una musica completamente diversa, molti sostenitori dai più giovani ai più anziani, hanno ritrovato quella passione che mancava, la voglia di andare allo stadio, anche se il gioco di Ranieri non è spumeggiante, comunque già solo la figura di Ranieri accostata al Cagliari è stato qualcosa di eccezionale, lui si è riempito d'orgoglio nell'allenare il Cagliari e si è visto, ragazzi, ed è veramente difficile trovare allenatori che si sentono orgogliosi di allenare il Cagliari in questo momento, ma anche noi siamo stati orgogliosi di aver avuto Ranieri come allenatore e diciamo che ha avuto la possibilità, perché già lo conoscevano i più esperti, i più veterani, ecco, tifosi del Cagliari, l'avevano già potuto gustare in tre anni, dall'88 al 91, e adesso c'è stata data anche a noi questa possibilità, un signor allenatore a partire dalle interviste, per poi, ripeto, il rapporto con i tifosi, perché Ranieri ha fatto da collante tra tifosi e società di conseguenza squadra, perché senza Ranieri non penso che il Cagliari sia... cioè, il Cagliari difficilmente andava ogni partita, nonostante alcuni risultati fossero molto deludenti, molto deludenti, a continuare a supportare la squadra, a non fischiare la squadra, anzi, a incitarla e a supportarla. E questo ha fatto solo bene all'ambiente, e questo va dato merito ai tifosi, ma anche, ovviamente, a Claudio Ranieri, che è riuscito, in qualche modo, a fare da portavoce al popolo rosso-blu e a farsi ascoltare, perché penso proprio che un'altra figura... diciamo che i tifosi non avrebbero ascoltato un altro allenatore, ma è proprio la figura di Ranieri che è importantissima per il Cagliari, perché Ranieri, indubbiamente, ha fatto precedentemente e ha fatto tuttora la storia del Cagliari. A partire con una promozione insperata, ragazzi, era veramente insperata la promozione, ha fatto un mezzo miracolo, assolutamente, perché eravamo tredicesimi quando Ranieri ci ha preso a gennaio del 2023 e siamo riusciti ad andare ai play-off e siamo riusciti a vincere al Bari, ragazzi. Ci ha regalato di quelle emozioni Claudio Ranieri. Ma anche quest'anno, con una promozione insperata, dopo che le prime giornate stavamo deludendo, anzi, la prima parte, ecco, di campionato, con le conseguenti quattro sconfitte consecutive. Adesso non mi ricordo le squadre precise, ma mi ricordo che abbiamo perso contro la Roma e poi contro la Lazio, soprattutto, quello è stato il punto decisivo. E quando Claudio Ranieri si dimette, dice, io voglio dimettermi, e la squadra dice, no, tu adesso rimani qua e ci hai portato in Serie A e lottiamo assieme fino alla fine. Questo è un senso di appartenenza, ragazzi, clamoroso. Cioè, ma è difficile trovare ad oggi una squadra che va a protestare per far restare un allenatore. Cioè, significa che anche a livello morale, a livello umano, Ranieri ha dato qualcosa a questa squadra. Che è una squadra obiettivamente non adatta per la Serie A. Eravamo con l'organico rosa, penso, più scadente. Nonostante tutto, Ranieri è riuscito a fare della forza del Cagliari il gruppo. Ecco, il gruppo è stato assieme a Claudio Ranieri quell'elemento che ci ha fatto salvare. Perché senza il gruppo unito, compatto, come lo è stato dopo che abbiamo preso la patosta in casa contro la Lazio, probabilmente il Cagliari non si sarebbe salvato. E non sarebbe servito a niente sostituire i Ranieri con un altro allenatore fino alla fine della stagione. Probabilmente avremmo fatto la fine del Sassuolo, ragazzi. Probabilmente avremmo fatto la fine del Sassuolo. Quindi va dato atto, veramente, a un allenatore straordinario che rimarrà per sempre nella storia e nei nostri cuori. Anche perché se ne va nella maniera più giusta. Nella maniera più giusta. Come ha detto lui nel video, non so se l'avete visto, nel video dei profili social del Cagliari, la sua intervista dove dice chiaramente che è meglio lasciare adesso piuttosto che avere il timore magari l'anno prossimo di non riuscire a fare buoni risultati e lasciarsi male. È giusto che Claudio Ranieri e il Cagliari si lasciano nella maniera più giusta e è anche più soddisfacente per entrambi perché lasciarsi con una promozione ottenuta che era l'obiettivo stagione del Cagliari, una promozione anche un po' insperata dopo le prime giornate di campionato è qualcosa di veramente straordinario. Sono sono veramente dispiaciuto umanamente adesso inizierà un nuovo capitolo della storia del Cagliari lascia un grandissimo allenatore non solo il Cagliari ma anche il calcio e veramente mi dispiace tanto perché a livello umano ci ha dato tanto ma io penso che il gol più grande di Claudio Ranieri in questo anno e mezzo in cui si è seduto sulla panchina del Cagliari è stato proprio riaccendere quella fiamma che i tifosi ormai avevano smarrito ecco farli tornare allo stadio far rivivere l'entusiasmo una piazza di cui aveva bisogno assolutamente per riavvicinare un po' anche il calcio alla Sardegna questo allenatore ha fatto veramente tanto dentro il campo ma soprattutto ha fatto tantissimo fuori dal campo quindi volevo fare questo tributo di 12 minuti per un grandissimo allenatore si sta parlando di Juric come probabile sostituto ne parleremo non domani ma magari dopo domani post Cagliari Fiorentina ciao ragazzi forza Cagliari e sempre forza Claudio Ranieri grazie a tutti